Benvenuti sul canale i robot di Megalopoli, io sono Valerio e oggi recensiamo il Guyver 1, il 1,6K, cioè scala 1 a 6 figure della Max Factory. Per chi non lo sapesse, Guyver viene dal fumetto manga Guyver, uno dei fumetti che ho amati di più durante i miei anni quando ero un teenager, sfortunatamente fumetto che non verrà mai concluso. Questa qui è una versione super premium di Guyver per celebrare, è stata fatta da Max Watanabe, della Max Factory, ed è la loro prima 1,6K. Allora, un paio di cose su questa figure per iniziare. Come prima cosa la mia prima 1,6K, normalmente non mi fanno impazzire le doll, con qualche eccezione ovviamente, come su tutto quanto, però per Guyver questo altro. Come seconda cosa questa figure ha un prezzo proibitivo, a dire tanto. Adesso cercate online quanto vi costa, perché dal Canada mi viene a costare parecchio di meno rispetto a quanto vi viene a costare in Italia, perché da me le tasse sono più basse banalmente, specialmente io poi sono anche in Alberta, quindi figuriamoci, però il prezzo mio è diverso dal prezzo vostro. Ci sono due diversi tipi di parere su questa figure. Chi l'ha comprata e chi l'avrebbe potuta comprare, ma non l'ha comprata, e probabilmente spera che in questa recensione io la vadi a stroncare, così dice, ah, ho fatto la cosa giusta. Prima cosa, la scatola è arrivata danneggiata da Amazon Japan, maledetti, perché è una roba che costa così tanto, non dovrebbe arrivare danneggiata, ci vorrebbe un po' più di padding, però fa niente. Adesso, al solito, ragazzi, accessori, posabilità, dimensioni, conclusioni. Allora, vedete davanti, accessori. Allora, manuretto di istruzioni, che è un foglio di carta terribile. Bianco e nero, pagina in giapponese, pagina in inglese. Ragazzi, ma sto prezzo non esiste proprio. Le vibro lame. Allora, non si vedrà dalla telecamera, ma tutto questo modello è fatto con uno shading blu scuro, per cui il colore non è mai completamente uniforme, ma ci sono sempre delle ombreggiature sopra. Comunque, fatte molto bene, stracolorate, molto belle. Poi lo vediamo meglio sulla figure. Qui ci sono le mani, ci sono una marea di mani e mi chiedo, ragazzi, che mi seguite? Ma le mani articolate sono una roba che esiste nel mondo delle doll? Ci sono? Oppure vi beccate solo ste mani? Proprio per sapere, non ne ho letteralmente idea. Quindi fatemi sapere sotto per curiosità. Comunque, le mani non si vede, ma sono preombreggiate, come vi dicevo prima. Tutti quanti i pezzi lo sono. Ovviamente fatte in maniera ottima, proprio ottima. Tutto quanto è completamente colorato. Queste qui sono le classiche tipi di mane. Allora, hanno un inserto dentro che va estratto per agganciare braccio. Penso che sia per evitare che la plastica si ristringa, così da evitare ogni sforzo. Io direi, se me lo iniziano a fare anche nei robot, sono contento. C'è solo una mano destra con il dito che indica. Queste qui sono delle costolette sostitutive quando gli agganciate il Mega Smasher, versione super aperta. Anche loro stracolorate, fate bene. Mega Smasher, versione aperta. Allora, Mega Smasher, lui l'ho fatto in base, però questa qui è la versione nel quale si apre completamente. Come vedete c'è una lente dentro. Questa figura ha come gimmick delle luci. Io non ho le lampade. Delle luci non me ne è mai interessato niente, quindi non lo vediamo. Display stand. Allora, questa è l'unica roba che mi ha lasciato un po' delusa. È bello che sembra la Unit 1. È un pochettino meno bello che sia così basic, così basico. Adesso gli occhiali. Gli occhi. Questi qui sono quelli trasparenti nel quale se accendete la luce si vede attraverso. Come vi dicevo, non li accenderò mai, quindi non lo scopriremo. Comunque, display stand. L'unica roba che mi ha lasciato deluso. Per il resto va bene, ma non ho molta esperienza. Sulle One 6, quindi mi dovete dire voi, tanta roba? Poca roba? Scrivete nei commenti. Adesso il Giver. Ragazzi, tirato fuori dalla scatola, mascella aperta, lingua di fuori. Le foto che hanno fatto vedere Just e gli amici di Gokin non gli danno giustizia. Perché? Perché ho fatto due prove anche io. Sto provando a inviare due foto al Sensei per fargli vedere com'era. E le foto vengono completamente mute. Cioè, viene tolto quella tridimensionalità data dal colore. Praticamente questo è tutto quanto ombreggiato, ma non col grigio, il nero, sta roba da bestie. È fatto con un colore blu scuro, per cui dà un effetto di profondità. In foto, sfortunatamente, come abbiamo visto su tutte quante le informazioni, non viene altrettanto bene. Spero che in video si prenda di più. È super lucido. C'ha questa dimensionalità dovuta al pre-shading fatta in posizione utile, quindi non in mezzo al pannello, ma dove il pannello va a curvare. Ragazzi, io, tirata fuori sto bestione che sono 30 cm alla testa, penso col corno 35, è una roba enorme. È tantissima roba. Di metallo non ce n'è, so che ci sono alcune toys col metallo dentro, però, cioè, non ne vedo il senso, onestamente. E è di una lucidità, è davvero Giver che esce fuori dalla mia testa. Nonostante la Figma mi fosse piaciuta molto, questa qui ne parliamo in fondo. Comunque, ragazzi, ottima impressione. Non è pesantissimo, che è benissimo, così non andiamo a sforzare gli snodi troppo. Parlando di snodi, ecco gli snodi. Allora, da qui si vede un po' meglio il colore, vedete che l'emblema è metallo. Non so se è colorato metallo o metallo o metallo, ma fighissimo. Gli occhi sono quelli con la superficie riflettente dietro, quelli col cromo per dare quando non accendi la luce. La testa va su e giù un pochino, i tubi si piegano da una parte e dall'altra. Da quel che ho capito, Max Watanabe stava facendo un commento sul fatto che questa roba ha un prezzo talmente alto perché hanno avuto dei problemi a ingegnerizzare come sta roba si apre, si muove senza spezzare troppo l'armatura, cioè senza far vedere gli snodi completamente a vista. Sì o no come riuscita va bene, non mi sembra niente di incredibile, però magari chi è più esperto nel mondo delle donne mi dirà, ma guarda sta roba l'abbiamo vista solo fino a qui. Comunque il braccio sale fino all'altezza delle spalle, rotazione sul bicipite, shoulder pad, spallaccio che si alza ovviamente per poter far alzare il braccio, anche lui è agganciato su un ball peg. Allora la maggior parte dei snodi, gomiti e ginocchi sono estrazioni, che volete dire dove dovete tirare un pochettino giù per poi raggiungere massima rotazione. Poco ragazzi, guadagna 3 mm, ma sono tra quei 3 mm che vi chiedono una chiusura completa. Vedete? Ho estratto un pochettino in giù e poi lo rimetto su. Se poi lo allineate col bicipite come farebbe una persona che ha più esperienza con questa roba, vedete? È un'ottima chiusura, è esattamente la stessa che ho io dal vivo in questo momento. controllato. Comunque, l'avambraccio gira, le mani non sono su un ball peg, ma sono su un gancetto che poi lo fa muovere da una parte all'altra, come quelle dei Sentinel, non gli ultimi, quelli un po' prima, tipo il quadratino che entra dentro il buchino. Vabbè, comunque, butterfly joint, non esagerato, ma quello di una persona normale, non quello del freak che deve fare lo body pose. È una figure che rispetta un po' l'anatomia di una persona normale su mobilità, Allora, l'abcrunch sembra che non ce l'abbia, in realtà io l'avevo già attivato. Scendo un pochettino di costole, potevano fare un pochettino più. Vedete che si apre il coso, si apre il Megasmasher, perché non l'ho incastrato bene, perché prima mi sono messo a giocarci. Perché si può aprire, si vede il Megasmasher, ma lo vediamo tra un pochino. Allora, vedete, giriamo sinistra, giriamo destra, vita che va bene, secondo me, un paio di gradi in più ci poteva stare. Il tic-toc sopra c'è. Per muoverle gambe, le anche, bisogna estrarre le gambe, per cui spingere verso l'esterno, e questo permette una rotazione al quadricipite e che l'armatura non si vada a incastrare un pezzo sull'altro. Queste qui sono cose abbastanza utili, specialmente perché quando estraete non c'è proprio rottura completa dell'armatura. Certo, la si può causare rottura, intendo, si vede che l'armatura si spezza. Comunque, vedete, prima di arrivare a vedere i buchi dell'armatura, bisogna fare la chiusura completa. Per muovere il piede bisogna estrarlo verso il basso. Poi c'ha la punta del piede. Qui volevo farvi vedere il tic-toc. Aspettate, vi faccio vedere anche l'altra gamma, poi vi faccio vedere il piede del Megasmasher. Comunque, sull'articolazione, allora, non sono assolutamente... Cioè, non ne so, quasi una mazza di 1-6 scale. Ne so davvero, davvero pochino. Quindi mi dovete dire voi, sotto nei commenti, mobilità buona sì o no, mobilità così, pomì. Secondo me è buona, eh. Cioè, però, onestamente, non avendo metri di giudizio, diciamo che per essere in action figure è buona. Comunque, scusate, punta del piede vi faccio vedere col piedino da ninja e poi, per muoverlo, va estratto. Attenzione, se non lo estrete, andate a danneggiare la vernice, che però è solidissima. Ok, ovviamente non ci sono segni di sprue neanche a pagare. Vedete, può aprire il Megasmasher da una parte e dall'altra e poi c'è la versione completamente estesa. Io non ho capito se la versione completamente estesa è per la gimmick delle luci o semplicemente per il grado in più che ti dà. Comunque, io, nella mia vetrina, lo tengo a Megasmasher aperto e la metta. Adesso, solito giro di mega comparazione. Mega comparazione, stavo dicendo, omino Lego piccolo, come al solito. Ragazzi, prendetevi un omino Lego a casa, così sapete. La Figma. Mi dicevano Figma, questa è una versione ingrandita da Figma. No, non c'entra niente. La Figma c'è anche un paio di cose più carine, in realtà. Questa qui, però, vabbè, sembra uscita dalla realtà. Bambosby, Masterpiece. Vedete, non è... Corraio Bot Gurren Lagan, che non è piccolino, però lui è gigante. Il Mega Zord Flame Toys. E, boh, ragazzi, non sapevo cos'altro farvelo vedere. Questa è la mia unica 1C Scale, quindi a tanto rimaniamo. Adesso andiamo alle conclusioni. Allora, al solito pro e contro, ma non sono un esperto in DOS, quindi mi dovete dire che ne pensate. Allora, contro il prezzo è una roba allucinante. È davvero altissimo. E se chiedete a me è 100 euro in più di quello che dovrebbe essere. Se ecco, seconda cosa. Il libretto di istruzione è una roba vergognosa. I display stand potevano fare una roba un pochettino più carina, tipo potevano colorare il centro con del metallo per fare il diadema. E non c'è la maschera mezza aperta come c'è nella Figma. Pro. Allora, è colorata in maniera incredibile. Lo sculpt è fantastico in maniera oggettiva. È una roba che effettivamente sembra uscita da manga contro le limitazioni di quella che illimita il materiale. È davvero fantastico. È abbastanza articolata, ma non sono un esperto su doll, quindi mi dovete dire voi, vi ho fatto vedere l'articolazione, ditemi che ne pensate. Ed ha un ottimo feeling di solidità in mano. Detto questo, la raccomandiamo. Allora, ragazzi, la Figma va benissimo quella, se avete quella lì. Se avete i soldi in più, pensateci, perché questa qui tirata fuori dal box è una roba che tenete bocca aperta, lingua da fuori da quanto è bella. Vi ripetisco, io non sono molto oggettivo su alcune cose, su Giver non lo sono molto oggettivo, però questa qui l'ho aperta e avevo paura di aver fatto un errore tipo con Raiden Masterpiece Giant, guardatevi quella review se siete curiosi, e invece no. Sono rimasto completa, 90% soddisfatto. Quindi dal mio punto di vista, se ve lo potete permettere, ve la raccomando. Se non ve la potete permettere, la Figma va benissimo ed è un'ottima figura e se non vi interessa ne uno ne l'altra, beh, fa niente. Comunque, ciao a tutti e buona giornata, ragazzi. A tanti. Grazie. Grazie.